ciao a tutti ciao fanciulli ciao fanciulli andiamo a vedere le previsioni per la settimana come ogni giovedì come ormai riconsueto allora queste non le ho messe dritte dicevamo farò due stesse diverse io ti invito a sceglierne una come la stessa diciamo la previsione per la sua settimana però ascolta anche l'altro mazzetto che non hai scelto per avere un qualcosa in più un messaggio in più qualche dettaglio in più che ti può comunque riguardare una cosa se ti interessa acquistare le mie carte cioè i miei tarocchi i miei oracoli i messaggi di lui e lei le parole d'amore sono i mazzi che io ho creato mandami una mail alle carte di penelope chiocciola gmail.com e metti nell'oggetto della mail info carte e poi nella mail mi chiedi quello che vuoi sapere detto questo andiamo ad identificare i due mazzetti per il primo mazzo gli diamo il quarzo rosa e per il secondo mazzo di tarocchi gli diamo l'avventurina verde concentrati fai la sua scelta e vediamo cosa prevedono i miei tarocchi andiamo andiamo a vedere la settimana per il quarzo rosa io direi però prima di vedere proprio subito i tarocchi vediamo un pochino le energie il vento diciamo così come butta la settimana con i miei oracoli bellissimi fra l'altro me lo dico da sola allora per coloro che hanno scelto il quarzo rosa cosa vedete per la settimana quali saranno le energie generali le energie principali che gravitano durante la settimana per tutti coloro che hanno scelto il quarzo rosa la riparazione una carta molto 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 bella il viaggio guarda la riparazione il viaggio cos'altro l'avanzamento pensamento per la settimana del quarzo rosa l'azzardo quindi qui c'è un qualcosa di avventato di azzardato che potremmo fare o che ci potrebbe proprio accadere cos'altro per il quarzo rosa questa me volata andiamo a vedere cos'altro per il quarzo rosa la falsità in extremis allora andiamo a vedere poi con i tarocchi vediamo qui sul fondo del mazzo abbiamo la devozione ma allora qui senz'altro una settimana molto molto bella molto molto positiva ok qui tutte le carte mi parlano di viaggio di movimento di spostamento quindi casi sono due o è un viaggio di andata verso un luogo una località di mare una località di vacanza o comunque da qualche parte o un viaggio di ritorno da qualche parte o magari durante questa settimana farai entrambe le cose parti ti fai dei giorni e torni va bene insomma qui tutte le carte ci parlano ora vedremo con i tarocchi naturalmente tutte le carte mi fanno intendere di un viaggio di un movimento di uno spostamento che dovrete fare ma qui c'è anche l'allegria c'è un qualcosa proprio che darà gioia e darà contentezza e darà divertimento un qualcosa magari che arriva inaspettato che tu voi insomma proprio non vi aspettate qui c'è proprio l'inatteso che accade ok l'inatteso l'inaspettato che accade andiamo un pochino a vedere ma io credo in bene qui è vero che c'è che c'è la falsità in chiusura ma con tutte queste carte insomma la vedo un pochino più adesso vediamo comunque con i tarocchi non la vedo per e non è assolutamente per niente una settimana negativa qui tutt'al più quello che potrebbe capitarvi magari venire a sapere un qualcosa capito di qualcuno che non ci saremmo aspettati però insomma voglio dire io tutto il resto della settimana mi parla a musica voglio dire cioè sono carte molto positive andiamo a vedere per il quarzo rosa quindi queste sono un po le energie ci sono delle notizie un qualcosa che arriva quindi proprio un pacco o una persona capito qui c'è proprio una novità in attesa che accade vediamo con i tarocchi allora quarzo rosa per la settimana cosa accadrà a queste persone quali novità ci saranno guarda mica per nulla lasso di denari bellissima carta cos'altro per il quarzo rosa cosa vedete accadere qui c'è mi sono volate tutte me non ne chiedo e più parlano vabbè il re di denari lasso di spade sono già due assi il 6 di denari ok mettiamole più giù ok 6 di denari il 3 di spade il re di spade il cavaliere di coppe allora qui ci potrebbe essere senz'altro allora il viaggio me lo ribadiscono anche i tarocchi e qui fanno vedere proprio il lasciarsi se vuoi anche alle spalle qualche cosa ma anche il chiarimento la novità la notizia che potrebbe arrivare da qualcuno con cui dovete avere un chiarimento qui c'è senza allora ce n'è una calda una fredda mettiamola così qui ci sono sia delle gioie una gioia un brindisi un festeggiamento di un qualche tipo quindi magari una novità una notizia che vi darà gioia e vi darà contentezza magari proprio inaspettata un chiarimento con qualcuno quindi non so se vi dovete chiarire con qualcuno questo lo sapete lo sapete voi ma qui c'è il cuore che parla qui c'è la contentezza di un qualche cosa ma c'è anche io non so se ha a che fare sempre con questo discorso se sono due cose distinte e separate l'una dall'altra me lo direte voi ok con i vostri con i vostri riscontri durante la settimana qui c'è anche una persona magari o che si era allontanata o che era mancante vista anche questa falsità qui che potrebbe però riavvicinarsi potrebbe rifarsi sentire magari anche con fare un pochino falso come dice un po questa maschera capito come fare il viso un pochino ora non voglio di parolacce insomma da paraculo come si dice no quello mi dire io ma what are you talking about di cosa stai parlando io non sono sparito è una idea insomma non lo so va bene però qualcosa di questo di questo tipo allora qui c'è proprio anche una notizia che arriva ve l'ho detto quindi a prescindere da tutto quello possono essere cose anche staccate l'una dall'altra non so se rendo l'idea quindi abbiamo detto novità c'è sicuramente il viaggio che andiamo da qualche parte c'è una situazione che magari ci aveva dato un po del filo da torcere che avanza che si sviluppa che progredisce ok anche in modo abbastanza inaspettato qui c'è un qualcosa che progredisce in modo inaspettato questa falsità andiamo a vedere voglio proprio chiedere guarda perché no che cos'è questa falsità in chiusura per il quarzo rosa che co 240 arte comunque qui ci dicono quella falsità ci parla torre 3 di coppe 2 di bastoni la temperanza la ruota e il 6 di bastoni allora qui c'è stato un qualcosa che ci ha ferito ci potrebbe ferire qui c'è una situazione esterna a noi o una persona che potrebbe metterci bastoni tra le ruote per una determinata situazione questo sì però qui alla fine la cosa si dovrebbe si dovrebbe risolvere vediamo ancora con gli oracoli quindi dicevamo questo va bene la novità qui vi vedo anche durante la settimana festeggiare qualcosa con qualcuno quindi magari andare in un locale fare una bevuta con gli amici o a mangiare una pizza perché qui c'è sia il bere e mangiare che qui da qualche parte andate magari avete il green pass non lo so ora mi scappa con questo green pass va bene quindi qui c'è il mangiare il bere e festeggiare con qualcuno andiamo a vedere cos'altro vedete per il quarzo rosa l'amore quindi qui c'è anche l'incontro con una persona a cui noi teniamo teniamo molto se non si tratta di incontro il mago incontro di persona qui si potrebbe trattare senz'altro di una novità di una notizia di un risentire qualcuno va bene andiamo a vedere cos'altro per il quarzo rosa allora qui sono cadute la carta del perdono sorry scusa mi dispiace ok il cagnolino che chiede le scuse con il fiore in bocca la serenità vedi un qualcosa che va ad aggiustare una certa situazione con un'altra persona perché qui c'è la coppia ok e il possesso quindi qui c'è una situazione durante questa settimana che si va come stavo dicendo a risolvere guarda che avevo anche la l'amante la sensualità l'amicizia e l'impegno quindi io vi vedo sia trascorrere non lo so del tempo libero con degli amici con delle conoscenze con delle persone care insomma a cui voi tenete molto con una in particolare a cui tenete molto sia delle notizie arrivare sia un viaggio fare bla 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 tutto quello che vi ho detto fin qua vediamo un pochino anche i segni zodiacali che cosa dicono per la settimana con quali segni viagali avranno a che fare allora qui c'è il sagittario con quali segni zodiacali avranno a che fare cosa è volato faccio quante carte che volano che bello quali segni zodiacali vedete coinvolti allora abbiamo detto il sagittario il capricorno capricorno che viene subito confermato altro segno di fuoco quindi sagittario leone e ariete quindi tutte e tre i segni di fuoco i pesci il toro quali segni zodiacali vedete comunque tutti allora prendiamo quello che è caduto l'acquario l'abbiamo visto no ve lo dico adesso e il capricorno viene confermato per la terza volta addirittura e aggiungiamo anche il segno del cancro quindi una settimana molto molto movimentata ma molto molto bella è molto molto bella io non credo che questa falsità ve l'ho detto prima che vi guasti no 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 non credo che guasti proprio nulla anzi tutt'altro qui ci sono delle situazioni che vengono recuperate che vengono migliorate che vengono perfezionate che si svilupperanno in un certo modo anche in modo proprio inaspettato proprio un qualcosa e voi non ve lo credevate proprio quindi mi raccomando scrivetemelo nei commenti fatemi sapere va bene una felice settimana a tutti voi andiamo a vedere adesso l'altro mazzetto andiamo a vedere la settimana dell'avventurina verde mettiamo un attimo qui i tarocchi andiamo prima a chiedere ai miei oracoli vediamo un pochino che aria tira ok andiamo a vedere un po la base insomma come butta la settimana poi con i tarocchi andiamo a vedere in profondità allora per coloro che hanno scelto l'avventurina verde quali sono le energie della settimana per queste persone quali sono la lotta qui c'è un combattimento di un qualche tipo è dobbiamo farci valere per un qualcosa un po e parole vediamo la lotta non è un litigio vada bene non è proprio un litigare è un lottare un combattere per un qualcosa quindi un volere arrivare ad ottenere qualcosa magari proprio da da qualcuno qui mi è volato l'invito ok per l'avventurina verde per la settimana quali sono le energie cosa vedete ok la devozione l'indecisione avventurina verde e la fantasia ma e allora qui è evidente allora qui c'è un qualcosa a cui stiamo puntando dove vorremmo arrivare però siamo anche molto indecisi quindi indecisione sembrerebbe essere proprio nella nostra testa nella nostra mente quindi vedi qui ci sono le maschere del teatro no la gioia e la tristezza che sono nella nostra mente nel nostro pensiero quindi qui c'è un pensiero molto 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 indeciso su qualcosa da una parte c'è la devozione c'è il desiderio c'è la voglia di combattere di arrivare ad ottenere un qualcosa di qualsiasi tipo di cosa si tratti naturalmente per ognuno delle vostre vite si può trattato un discorso diverso ovviamente naturalmente ok ecco però dalla e siamo devoti alla causa vedi c'è anche la devozione centrale come dire no c'è un qualcosa che ci sta a cuore a cui veramente ambiamo eccetera dall'altra c'è l'indecisione come dire ma chissà se ci arriverò mai cioè qui c'è un progetto in poche parole un qualcosa che ancora nella nostra mente ok che vorremmo realizzare veramente con tutto il nostro cuore però ancora non sappiamo forse non sappiamo i passi da prendere non sappiamo come ci dobbiamo muovere insomma capito è ancora un po fuffa un po nebbia non so come dire un progetto appunto non è nulla di concreto però insomma oltre a tutto quello che vi ho detto a questa indecisione a questa insicurezza questo qualcosa qui ci vedo anche la parte vi potrebbe arrivare veramente letteralmente più un invito quindi un invito una notizia una novità che potrebbe arrivarvi una telefonata un messaggio una proposta un'offerta di un qualche tipo ora vediamo poi con i tarocchi va bene o vediamo un pochino cosa dicono loro per questa avventurina verde avventurina verde per la settimana con i miei tarocchi vediamo che cosa accadrà queste persone durante la settimana l'amore mio il re di bastoni ok cos'altra avventurina verde per la settimana cosa accadrà il 10 di spade avventurina verde avventurina verde cosa vedete accadere durante la settimana per queste persone il 3 di denari cos'altro vedete accadere per l'avventurina verde per queste persone durante la settimana il cavaliere di denari allora qui ho capito allora qui ci potrebbe essere quindi potrebbe ancora accadere durante la settimana o essere già il 6 di spade essere già appena accaduto qui ci potrebbe essere una delusione cioè magari avevamo un impegno abbiamo un invito dovevamo fare un qualcosa insieme con questo re di bastoni che mi potrebbe rappresentare uno gnocco fuori di misura beate voi o semplicemente il lavoro il datore di lavoro per esempio non è detto si tratti solo d'amore non è che mi mandano solo sull'amore qui queste carte in questo caso in questa stesa a volte sono proprio chiare altre volte più generiche nel senso a ognuno il suo come dire ok quindi qui ci potrebbe essere stato o arriverà questo invito questa proposta no questa offerta come vi stavo dicendo però poi ci sono 10 di spade cioè qui c'è un qualcosa e qui c'ho l'indecisione la fantasia c'è un qualcosa e qui potrebbe non andare in porto oppure che potrebbe non essere andato in porto quindi se qualcosa è già successo ad alcuni di voi no che vi è saltato un impegno con questa persona dovevate fare qualcosa ma è saltato insomma ok lo sapete voi di cosa si tratta ecco qui potrebbe accadere ora se non è ancora accaduto che salti un qualche cosa un impegno un incontro o una telefonata ti chiamo domani per dire no invece nulla ripeto si può trattare anche di lavoro non è detto si tratti solo di amore o comunque di una persona a cui noi teniamo non so se mi sto spiegando attenzione va bene qui c'è un qualcosa che avremmo dovuto fare o che vorremmo fare anche insieme ad un'altra persona magari che però viene un po diciamo che qui potremmo incorrere in delle limitazioni di un qualche tipo durante la settimana ma non causate da noi imposte da altre persone va bene qui dovevamo fare qualcosa e c'è il nostro amico la nostra mia il datore di lavoro l'uomo che ci piace bla 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 che ci da buca ora io non è che vedo proprio la buca qui però insomma qui c'è un 10 di spade qui c'è il morto in terra quindi qui c'è un ed è sotto l'invito quindi qui c'è un qualcosa che magari avremmo dovuto fare che però insieme a questa persona che però bene o male salta perché poi qui c'è molto nervosismo molto nervosismo molta indecisione magari fino all'ultimo momento non si sa come affrontare la situazione se la situazione si risolve oppure no insomma un po di ansia qui la vedo sinceramente ci potrebbe essere anche una una diagnosi è che potreste fare nulla non è che vedo malattie anche perché non ci guardo ma nel senso proprio magari durante la settimana dovrete fare anche delle analisi o qualcosa che dovete fare quindi vedo questo vi dico anche questo andiamo a vedere cos'altro mi dicono però i tarocchi su chiediamo proprio su queste carte degli oracoli per esempio questa fantasia di cosa ci parla vediamo un po per l'avventurina verde quella fantasia lì di che cosa mi parla per l'avventurina verde di cosa parla quella fantasia lì ok qui c'è il 4 di bastoni qui c'è un progetto di un qualche tipo qui c'è un progetto magari anche proprio lavorativo che dovete fare o un fare un qualcosa in gruppo con altre persone andiamo a vedere cos'altro qui c'è il 5 di coppia qui c'è un qualcosa che volevamo portare a termine nel senso termine nel senso troppo di compimento che dovevamo comunque fare però magari come si dice rimarrà incompiuto incompiuto nel senso non che non si fa nulla però che non si arriva al termine di questa cosa cioè ci si dà un da fare oltre ogni limite ok ci siamo sbattuti sbattuti oltre ogni limite per questa faccenda però poi alla fine insomma poi il fante di bastoni e il e il papa io però qui quello che c'è di bello ci vedo anche una comunicazione che durante questa settimana potrebbe arrivare quindi se avete un qualcosa come vi stavo dicendo un po a mezzo un po che non si sa insomma io ho i ma qui ma lì ma la ma la io poi alla fine durante la settimana questa comunicazione la vedo arrivare quindi se questo che vi crea ansia disagio insomma che vi fa stare un po sulle spine state tranquilli o tranquille che dovreste risolvere durante la settimana ok vediamo un po questa lotta guarda come questi due cagnolini che lottano no per affermarsi l'uno sull'altro che cosa mi parla quella lotta lì ha subito sì la morte le stelle e la regina di bastoni quindi qui c'è una donna o uomo che sia dipende chi sei tu chi sei tu che ascolti questa che ascolti questa stesa qui fanno io credo una donna ma anche tu fossi un uomo diciamo che qui vedi la regina il re di bastoni guarda la coppia guarda guarda la coppia e come si dice qui c'è un qualcosa che magari è stato chiuso vedi qui c'è c'è il morto in terra no con questo 10 di spade cosa che c'è anche sta regina di bastoni qua quindi qui veramente può darsi che abbiamo una persona cioè te alle prese con una chiusura magari avete appena chiuso una porta ripeto di qualsiasi tipo si può parlare anche di lavoro qui da queste carte lavoro o amore o amicizia che sia una porta che si è chiusa e si tenta quantomeno di andare verso diciamo uscire lasciarsi alle spalle questa situazione un pochino difficile vediamo questa devozione centrale di che cosa mi parla che è una carta molto molto bella molto dolce molto romantica è come carta insomma per il messaggio che da è molto molto positiva vediamo un poennino quella devozione infatti mi parla del nove di coppe qui c'è un qualcosa che proprio ci sta a cuore che ci sbattiamo ci siamo sbattuti all'inverosimile per ottenere però nello stesso momento c'è un qualcosa che non va né avanti né indietro o almeno magari troppo nella nostra mente qui c'è la mente coinvolta quindi magari tutto quello di cui ti sto parlando riguarda più un'insicurezza sua interiore durante questa settimana le carte mi portano molto a quello oltre a tutto quello che ti ho detto però infatti qui ti vedo anche durante la settimana ritagliarti dei momenti per te quindi non so potresti potresti recarti ad una spa o che ne so io insomma magari sei proprio al mare o te ne vai in piscina capito insomma alla ricerca un po di questa tranquillità perché ne hai bisogno qui ti vedo molto ansioso ansiosa insomma c'è un po di c'è un po come si dice di nervosismo però quello che vedo qui vedo anche arrivare delle notizie delle notizie e ti vedo anche a oltre a tutto quello che ti ho detto poi magari magari riguarda la stessa situazione ma magari anche no non è detto ti vedo anche fra la gente quindi non so potresti benissimo uscire andare per locali non lo so a cena fuori o magari semplicemente in spiaggia qui guarda neanche non lo dico per questa carta assolutamente però qui insomma fanno vedere proprio no fra l'altro le persone in spiaggia quindi potresti veramente uscire andare in un qualche locale insomma ti vedo in compagnia di altre persone questo è quello che tentavo di dirti io chiederei anche alle mie carte quali segni zodiacali vedono coinvolti no qui così magari capisci anche di chi ti hanno parlato andiamo a vedere quali segni zodiacali vedete coinvolti per queste persone per l'avventurina verde allora qui c'è il segno del capricorno che se non erro è uscito anche nell'altra stesa andiamo a vedere avventurina verde per la settimana quali segni zodiacali qui c'è il toro i gemelli la bilancia l'acquario il cancro la vergine e il segno dei e il segno dei pesci che aggiungo non poteva mancare vista la stagione insomma marina diciamo va bene ragazzi e ragazze io non so fatemi sapere un pochino nei commenti che cosa fate come ve la state passando vi ringrazio per essere stati sempre naturalmente qui con me e vi aspetto sempre sintonizzati ovviamente al mio prossimo video ciao a tutti ciao eccoci qua vi lascio ai miei vino ciao a tutti ciao a tutti